Ieri abbiamo parlato, qualcuno ha detto abbiamo bastonato la Chiesa, perché la Chiesa deve essere una Chiesa di anime e non di persone senza dimensione sociale. Oggi continuiamo a bastonarci, perché queste bastonate ci fanno bene, riprendendo un po' il filo del discorso, anche sulle riflessioni di Emiliano Antenucci. Cioè Gesù nel Vangelo dice io vi ho chiamati amici. Gesù ci chiama amici. Amicizia vuol dire relazione, vuol dire incontro, vuol dire certamente dimensione mistica della vita, quindi dimensione orizzontale dell'incontro, ma vuol dire anche e soprattutto dimensione sociale. Gesù ci vuole amici. Nella Chiesa siamo tutti uguali, dal Papa ai Vescovi, ai Sacerdoti, ai Diaconi, ai Consacrati, all'ultimo fedele. Tutti uguali, tutti amici del Signore, anche se abbiamo ministeri diversi, perché la diversità ci porta poi alla completezza, alla pienezza della vita. Io vi ho chiamato amici. Ma ridiamo la parola a Antenucci, quando dice che noi siamo ambigui. La nostra libertà, meglio, la nostra libera volontà può aiutare la salvezza di un'anima o no? Abbiamo dimenticato che noi siamo responsabili, non tanta e non primariamente, della funzionalità di una struttura ecclesiale o piuttosto di una struttura sociale, ma siamo responsabili anzitutto delle anime. Ognuno di noi è responsabile delle persone, delle anime, di ogni uomo e non solo dei cristiani o dei fratelli delle nostre comunità. Siamo responsabili ad ogni livello. Il codice di diritto canonico della Chiesa dice che il bene superiore della Chiesa qual è? Il bene delle anime. L'interesse superiore primario, il primo interesse è il bene, è la salvezza delle anime. E allora tornare a questa dimensione sociale, tornare a questa bellezza dell'incontro con gli altri, perché possiamo vivere ciò che il Signore ci ha detto. Io vi ho chiamati amici, voi siete i miei amici. Non dice voi siete cavalieri, professori, monsignori, eccellenze, no. Voi siete miei amici. Dobbiamo partire da questa realtà. Il resto è tutto corollario, sono tutte cose anche alcune volte necessarie, ma se l'apparato esterno mette in ombra la sostanza, la vera natura della nostra fede, ma anche del nostro essere Chiesa, è lì dobbiamo un po' riflettere. Siamo responsabili delle anime, siamo responsabili del bene di tutte le persone. Questo che sto dicendo a me e poi anche a voi ci porta a riflettere su una dimensione di un incontro non limitato a dove vivo, ma un incontro nella comunione della Chiesa, un incontro che mi porta a sentirmi responsabile anche di un fratello o di una sorella che vive dall'altra parte del mondo. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!